Benvenuti al TG LIS della Giunta regionale della Basilicata. La Task Force comunica che ieri, 23 giugno, sono stati effettuati 274 test per l'infezione da Covid-19, risultati tutti negativi e che nel corso della stessa giornata è stata registrata una guarigione. Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 5. Ai positivi vanno aggiunti, tra gli altri, 367 pazienti guariti e 27 persone decedute. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 37.887 tamponi, di cui 37.468 risultati negativi. Attualmente nelle strutture ospedaliere lucane è ricoverata una persona che si trova nel reparto di pneumologia dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. I lucani in isolamento domiciliare sono 4. Il prossimo aggiornamento domani 25 giugno.